Chi è espropriato rischia di perdere parte delle proprietà, parte dei giardini, rischia di avere un'infrastruttura che invade le proprie case. A me mi colpisce la vidazione. Lei è una casa recentemente ristrutturata che rischia di veder buttare giù. Esatto. E sposteranno una gabbina di trasformazione praticamente nel centro del nostro parcheggio e quindi noi non soffriremo più né del passaggio al parcheggio perdendone un'altra parte. In comune erano presenti anche alcuni di loro, i cittadini, colpiti d'esproprio. L'appuntamento con al centro il completamento della Due Mari nella sala del Consiglio Comunale era infatti aperto a tutta la cittadinanza. Un incontro che partito da un presupposto, la Due Mari è una grande e importante opera strategica profondamente voluta dal comune, ma che presenta alcuni limiti progettuali. Il comune come ente di tutela del territorio, del proprio territorio, ha voluto insieme ai cittadini portare avanti delle osservazioni che poi sono state portate in Consiglio Comunale e abbiamo approvato appunto una delibera all'unanimità da poter produrre come documento in virtù della conferenza dei servizi a cui siamo invitati come ente per appunto evidenziare quelle che sono secondo me le criticità che ha l'opera in tutta la sua struttura. Ma vogliamo anche precisare che comunque come amministrazione non è che siamo contro l'opera, anzi quest'opera, soprattutto l'EI78, un'opera che questo territorio aspetta da tanto tempo e quindi siamo favorevoli, tant'è che la delibera si è divisa in due parti, una parte appunto con esito favorevole, salvo qualche osservazione sulla EI78, ma poi una parte un pochino più critica per le due bretelle che hanno un impatto ambientale sui territori importante. Il ricorso al TAR infatti è per le bretelle, la prima quella da San Zeno a San Giuliano, la seconda da San Zeno verso la strada regionale 71, strutture propedeutiche alla realizzazione del tratto a retino della Due Mari tra San Zeno e lo snodo di Olmo. Sono tutte osservazioni molto puntuali, molto tecniche, per esempio una delle più importanti secondo noi è quella della previsione di un sovrapasso che in uscita dalla EI78 nell'area di via Salvadori abbiamo chiesto che venisse stralciata questa previsione e venisse tolto questo sovrapasso, ma abbiamo fornito una piccola indicazione su una viabilità alternativa secondo noi molto migliore di quella.